Musica Ragazzi, prima di partire con il video Volevo dirvi che da oggi in poi I video saranno alle ore 14 e 30 Se ho problemi Tipo che ho avuto oggi Perché oggi ho avuto problemi Non elaborava il video Non ho capito cosa è successo E non elaborando il video Il video è uscito tipo alle 4 Una cosa così Però avete capito bene Quindi perché a luna di notte Non ce la faccio più ragazzi È troppo difficile Devo andare a dormire un po' più presto La notte ho bisogno di dormire Non posso andare a luna di notte Svegliarmi alle 8 E dormire solo 7 ore No, quindi ho bisogno Caricarli alle ore Non so se alle ore 14 30 Alle ore 15 Poi vi farò sapere Cioè è possibile che da due giorni Il tempo è così No ma è nuvolosissimo Oggi non siamo qui Per parlare delle nuvole Non come l'altro video Ma siamo qui Per parlare Di come sta andando Solamente io Ogni settimana Oggi è lunedì Però domani è martedì Dovete sapere Che quando registro dei video Certe volte mi capitano Le cose tipo Ma questo video Lo posso caricare Ci sono delle volte In cui non li carico Perché Faccio cose troppo noiose Io lo so che questi video Sono noiosi Lo so benissimo Però Io ve l'ho detto già Da qualche video E ve lo ripeto ancora Io con la quarantena Non so cosa fare Pensavo che era una bella idea Ma Ce lo posso fare Niente Giocare Basta giocare Ti gioco sempre No perché poi I video di giocare C'è il video Quello là dello zoo Che è uscito sabato Cioè è uscito domenica È stato lunghissimo Però ragazzi E così ci sta E oggi Devi vlog Addirittura 25 Siamo arrivati già a 25 Cioè Siamo arrivati a 25 I giorni In cui di fila Ho caricato Tutti I video In un giorno Ragazzi È davvero complicato Però dovete sapere Che gli orari Cambieranno Forse l'avevo già detto All'inizio Però vabbè Se l'ho detto Se lo dico all'inizio Bene Se lo farò Una clip Allora Dovete sapere Che quando io sto a casa Non riesco più a interagire Ogni volta che esco Mi sento male Ogni volta che sto dentro Mi sento male Cioè Non so cosa fare più Devo abituarmi Di nuovo Alla vita normale E soprattutto Voglio dirvi che Ho cambiato postazione Una metto qui Una metto qua Perché è più comodo Sinceramente Invece stare in camera Basta Tutto scomodo Qui abbiamo le cuffie Stanno per capire tutto Io ti ho idea Lo sapete Che volevo fare Volevo mettere il computer Qua sopra Ma non è una bella idea Anche perché sta tv Non c'entrano proprio Sulla storia E la situazione attuale È questa qui Continuo ad avere spazio Ho bisogno Di liberare tutto Ma non in questo video Perché In questo video Già abbiamo parlato Noi ci vediamo Penso Nel prossimo video Penso che Trovo un monitor adatto Perché Questo qui Ho scoperto ieri sera Questo Ma in generale Anche questo Non si collegano Se io ci metto Il pc Vicino Con un'adattatore Che ho comprato Anni fa Non si collega Ho provato A utilizzare Quell'adattatore Col mio fisso Sotto lo schermo E va ragazzi Non ne ho idea Devo capire ancora Perché Sto schermo È l'HT C'è 1920 Per il migliotato Però Devo capire ancora bene Ragazzi Poi vi farò sapere Facciamo al prossimo video Ciao